5 puntate per 5 settimane, 2 guest star del mondo dello spettacolo in gara per attenti a quei due la sfida. Debutterà il 13 gennaio dall'auditorium della RAI di Napoli lo spettacolo condotto quest'anno da Paola Perego e Biagio Izzo. Mi sono fatta aiutare da Biagio Izzo perché da sola era troppo, quindi ci sarà anche Biagio Izzo con me. E poi abbiamo 2 guest star del mondo dello spettacolo che sono poi in realtà le vere protagoniste del programma, no? Loretta Goggi contro Antonella Clerici. Speriamo di farvi sorridere innanzitutto, io sono quello che presenterà più o meno i premi che le famiglie hanno tanto bisogno, spero di portargli fortuna, di farli vincere perché proprio io sono andato lì a cercare queste famiglie, a conoscerle, sono stato a casa loro e ho visto cosa hanno bisogno realmente e quindi spero di portargli fortuna. Le sfidanti della prima serata che aiuteranno le due famiglie a vincere i premi in palio saranno come detto Antonella Clerici e Loretta Goggi che si affronteranno in vari numeri, ballo, canto, magia, invenzioni e recitazione, il tutto con il sostegno di un corpo di ballo e di una band diretta dal maestro Stefano Palatresi. Soddisfatto Francesco Pinto, direttore del centro di produzione RAI di Napoli. Torno attenti a quei due e continuo il rapporto straordinario che abbiamo in questo periodo con RAI 1, sia sul fronte del varietà sia sul fronte del teatro, in questo momento RAI 1 ha fatto delle scelte di qualità, queste scelte di qualità sono scelte che danno a noi un momento impegnativo da un punto di vista produttivo ma sono le sfide che ci piacciono. Ospite della conferenza di presentazione dello spettacolo Mauro Mazza, direttore di RAI 1. Partiamo alla grande, alla grandissima con Lagoggi e Antonella Clerici, avremo altri grandi nomi nelle prossime puntate, insomma, spero che sia, conto che sia un grande spettacolo.